Fatiche di Stefano Ravaglia alla tastiera della macchina da scrivere o del computer. Stefano Ravaglia dietro la porta, calciatore e manager quasi dimenticati. La copertina, quindi qui passi in rassegna personaggi che una volta magari erano famosi, poi... Il quasi tra parentesi significa che i più esperti li avranno sentiti ricordare, però sono comunque personaggi di cui si parla sempre meno. Oggi viviamo in un mondo dove, se lo viviamo nel giornalismo, contano solo i gossip, il calcio mercato e tutto quanto. Non è la mia concessione di calcio. L'attualità va bene in un certo modo, ma soprattutto la conservazione della memoria storica. Quello è un libro uscito nel febbraio del 2018, sono 22 storie. Ho fatto una partita, 11 contro 11, calciatori e allenatori del passato. Rob Resenbrink, questo me lo ricordo anch'io, però... Erasmo Iacovone, oppure René Alejandro Pontoni, onestamente non sono neanche chi si... Quindi sfogliando questi personaggi, come hai detto esattamente tu, alcuni li conosco, altri meno, vedi, il quasi si spiega. Certo, certo. E ne ho raccontato la vita, insomma, e le gesta calcistiche. Ad esempio, tra gli allenatori, John McKenna. John McKenna si lega a Liverpool perché è stato il primo allenatore del Liverpool. Quello che hai riconosciuto era irlandese, il primo allenatore della storia del Liverpool. Quindi c'è un po' di Liverpool anche lì. Arpad Weiss. C'è Arpad Weiss che è stato nobilitato dal lavoro di Matteo Marani che ha riscoperto la sua storia straordinariamente. Ma poi alla fine c'è una chicca, come dicevo prima, perché ci sono 23 i protagonisti, perché c'è anche Oronzo Pugliese alla fine del libro. Il famoso Oronzo Pugliese. Questo nome vi dirà qualcosa perché è il personaggio dal quale è stato tratto Oronzo Canà. Esatto, allenava il Foggia. Quindi questo è un libro, anche questo, molto interessante perché invece che celebrare i soliti dieci campioni che tutti conoscono, qui c'è la vera storia del calcio. Colore i quali hanno fatto il calcio e poi chissà perché il calcio li ha un po' dimenticati. Esatto, esattamente. Il calcio dimentica in fretta. Meriterebbero di essere considerati ancora. Dietro la porta Stefano Ravaglia, ricordatevi, andatelo a cercare in libreria. Terzo ed ultimo libro di cui parliamo, di cui è autore appunto Stefano Ravaglia, il pallone con i pentagoni. I pentagoni ovviamente sono quelli disegnati sul pallone, adesso invece i palloni hanno tutti disegni differenti, a seconda dello sponsor e compagnia bella. E poi come vedete qua a fianco c'è una maglia rossonera che tra l'altro è di proprietà proprio di Stefano. Dell'autore, sì. E qui ovviamente c'è il tuo amore per il Milan. Sì, 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 sì. Vi direte come faccio ad essere milanista e del Liverpool. Pari e patta perché una l'abbiamo vinta e una l'abbiamo persa. Però ecco, è il significato di voler andare al di là dei colori perché il calcio è troppo grande per non raccontare tutte le storie che regala. Il pallone con il pentagoni è stato il mio primo libro, quella maglia che vedete è una maglia che ho indossato a sei anni perché mio papà mi portò e fece molto bene in un parco a fare la foto con maglia, pantaloncini e pallone. Mio babbo milanista, insomma, mi piace molto anche il tramandare in famiglia la fede calcistica. Mi portò lì, mi fece questa foto, la fece ingrandire e la portò a Milanello a farlo fotografare da tutti e ancora nella mia camera appesa. Racconto tutta la mia vita al seguito del Milan, che c'è ancora, adesso un po' meno, però ho motivi, tanti anni di abbonamento allo stadio, sempre da Ravenna, quindi sempre in trasferta. Quindi tu con Gianni Rivera, Gullit ti sei divertito un sacco? Sì, mi sono divertito, Rivera l'ho visto solo in video purtroppo, però insomma ho recuperato anche tutto quello che è la storia del Milan, io ho una pagina anche su Facebook che si chiama Tradizione Rossonera, dove pubblico giornalmente fatti della storia del Milan. È stata sempre la mia vita, non è stato solo lo stadio, è stato incontri anche fuori dal campo, è stato bello scriverne, si racconta delle mie trasferte, ma non è un'autobiografia. C'è un capitolo dedicato a San Siro, a proposito di chiesa laica, racconto personaggi del Milan, ma soprattutto anche un punto di vista del tifo, come si è evoluto in Italia, eccetera, eccetera. Il Milan è stata sempre la cosa per cui tutti mi riconoscono, è una fede che va sempre avanti e dovevo scriverne per forza. Certo, il pallone con i Pentagoni di Stefano.